L'Institut Quantum a Trento porterà una grande spinta e porterà il Trentino da protagonista in Europa per quanto riguarda lo sviluppo delle scienze e tecnologie quantistiche, sia dal punto di vista della ricerca in scienza fondamentale, della ricerca sperimentale e dello sviluppo di tecnologie per l'uso comune, con l'uso tecnologico industriale e comune nel prossimo futuro, un futuro non poi così distante come magari il sentimento comune può pensare.